eccoci qua buongiorno buongiorno a tutti oggi una bellissima giornata non c'è una nuvola e oggi andremo indovinate dove andiamo sulla allo shabberton ok qui appena dentro a fenil c'è un gran bel silenzio c'è una bella fontana dove poter riempire le borracce c'è ancora un po di asfalto e poi inizierà la strada sterrata verso la fortezza delle nuvole c'è anche un bel museo partiamo subito con delle belle pendenze qui siamo già intorno al 14 per cento primo chilometro già impegnativo vale e poi inizia lo sterrato dopo il primo chilometro di asfalto due chilometri dall'inizio della salita pendenze sempre mai sotto i 10 iniziano i tornanti e si sale strada bella ok siamo quasi al terzo chilometro e direi che qui abbiamo toccato già delle punte siamo andati oltre il 20 per cento lui è sempre la che mi guarda adesso qui spiana un attimo arriveremo fra poco a pra cloud località pra cloud 1589 di altitudine a tre chilometri e mezzo dalla partenza della salita buongiorno un piccolo angolo di paradiso e qui torniamo a delle pendenze mai sotto il 10 è adesso qui davanti vedo un muro quasi 4 chilometri qui parte strada militare fenice chaberton qui siamo al 13 14 per cento di pendenza a 1630 di quota si sale in fretta le pendenze sono ardua ok quinto chilometro eccolo lì mamma mia incut e timore ok sesto chilometro quasi 1900 metri di quota sempre pendenze sopra il 12 14 per cento 16 costanti ok sei chilometri e mezzo e usciamo da una rampa al 17 18 per cento spiana un attimo la vediamo la strada che sale spettacolare lui è sempre sopra la che mi guarda non mi lascia mai solo qui la strada un po franata però è sempre percorribile fantastico 7 chilometri di salita siamo quasi a 2000 metri di altitudine strada sempre percorribile dura alle 8 chilometro comunque non molla mai chilometri 8 fantastico dura è dura e difficile questo ottavo chilometro micidiale strada bellissima e tendenze impegnative problema che un fondo molto sdrucciolevole quindi dobbiamo spingere il doppio per stare in sella ok nono chilometro siamo a 2000 quasi a 2300 metri di altitudine e qui la strada è veramente impegnativa sia per le pendenze che per il fondo veramente dura ok qui è franata giù un po' c'è un passaggio stretto spettacolare è qualcosa di immenso al nono chilometro e mezzo arriviamo alla famosa roccia tagliata qui la strada è anche un po' franata qui la strada diventa un po' più brutta quasi al decimo chilometro e siamo qui a una località chiamata piano dei morti adesso abbiamo ancora qualche tornante per arrivare al colle dello Chaberton ogni tanto mi fermo a prendere fiato comunque continua questa salita sempre durissima con una strada difficile adesso proseguiamo di qua e andiamo su decimo chilometro e qui si spinge per forza perché è impossibile pedalarla siamo a quota 2390 lot des morts qui siamo già in territorio francese una cosa importante che dal quinto chilometro non c'è più acqua quindi non ho più trovato ruscelli è importante saperlo allora tutto il decimo chilometro è da fare a spinta perché la strada è veramente brutta è una pietraia veramente molto sdrucciolevole ok a 11 chilometri e mezzo arriviamo col du Chaberton ok ok dodicesimo chilometro di questa infinita salita siamo a 2700 metri di altitudine ogni tanto qualche pedalata riusciamo a farla dobbiamo arrivare sulla e lì si vede la strada che va su a zig zag adesso capisco perché il boni ha fatto fuori tutta la batteria della sua e-bike ciao boni tredicesimo chilometro abbiamo fatto qualche pezzetto in bici ma poca roba il resto è impossibile a 2860 di altitudine incredibile va che roba 2900 metri di quota fantastico quasi surreale ci sono quei vecchio filo spinato spettacolo spettacolo eccolo la ci siamo quasi al forte è sempre più vicino arrivo caro arrivo non ti preoccupare che arrivo qui c'è una prima caserma ai piedi del forte entriamo nel quattordicesimo chilometro uno spettacolo immenso e siamo a 3000 metri qui è veramente impervio oh cazzo siamo arrivati siamo a 14 chilometri e 200 metri mamma mia qui sotto ci sono delle vecchie caserme fa paura qua qua ci sono delle vecchie costruzioni quella è quella che abbiamo visto prima pazzesco 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 fenils chilometri 13 eccomi arrivati fantastico incredibile prendiamo omaggio mamma mia mamma mia fa paura 5 1 post eccomi wow pazzesco pazzesco incredibile immenso qua ci sono le torri una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto torri fantastica bike e questo è lo Chabertone bellissimo, allora direi acqua la si trova solo nei primi cinque chilometri dopo non c'è più acqua si pedala fino ottavo, nono chilometro a fatica fino al decimo dopo non si pedala più bisogna spingere, sì, qualche pezzettino ma irrilevante dopo si spinge e basta fantastico, fantastico grande adesso scendiamo poi lì al colle dello Chabertone prenderò per Clavier proviamo a scendere di là però il bello era la salita qui effettivamente non è per mountain bike secondo me se io posso consigliare non lo consiglio per chi vuole farsi una pedalata adesso concentrazione, scendiamo e ci sentiamo ciao a tutti fantastico bellissimo ciao a tutti alla prossima alla prossima scalata